Siamo nell'officina di Ricci Giovanni, Giovanni è un meccanico delle Willis. Giovanni, da quanto tempo è che tu hai questa attività? Da noi sono più di 50 anni che facciamo questo lavoro, io ho cominciato da ragazzo a fare il meccanico proprio su queste macchine. Poi siamo fatti sui trattori che anche abbiamo l'officina autorizzata a Niolla e dopo facciamo ancora un po' di queste macchine. Ce ne sono ancora in circolazione di clienti che vengono da te con queste giri? Sono tantissime ancora, sì che li vogliono ristaurare, adesso li usano, una volta si usavano più sull'agricoltura, adesso li usano come macchina d'epoca da farsi i suoi giretti e li tengono, li restaurano, li mettono. Non so se avete visto qualche volta in giro, ce ne sono tantissime di queste macchine. Ascolta Giovanni, questa è una di quelle famose jeep che metti a posto, ci avviciniamo? Quindi tu praticamente parti dal motore e metti a posto un po' tutto? Mettiamo a posto un po' tutto, dal motore, tutta la meccanica e facciamo anche la carrozza, l'impianto elettrico e ce la restauriamo. Ne ho restaurata, diciamo una volta le facevamo di più, proprio partivamo da zero a farle. Addirittura verniciatura? Verniciatura, facevamo tutto. Adesso le verniciature le facciamo aiutare un po' anche per farle un po' più perfette, ecco diciamo. Ascolta, adesso qui nell'officina ne hai due di Wille? Adesso ce ne ho due, però ce ne abbiamo, guarda ce ne è una fuori anche là, che è in riparazione che è quella. Giù nell'officina di sotto ne avevamo delle altre, di queste non mancano. Certo, mi dicevi anche che tu lavori anche sui trattori, però sei autorizzato anche per... No, ho anche i trattori, dal consorzio agrario e sono tanti anni che l'abbiamo l'officina autorizzata. E facciamo trattori, specialmente trattori, trattori macchine agricole. Certo, anche perché qui siamo in una zona ancora per fortuna agricola. Agricola e quindi noi facciamo, abbiamo quel marchio qua, noi siamo specializzati su questo qua, però ripariamo un po' tutti. Ascolta, tu fai anche il cambio gomme? Facciamo il cambio gomme, che lì è il mio figlio che li fa e abbiamo un bel attrezzatore, abbiamo il sollevatore, macchina a bilanciare, smonta gomme. Lì, lui li fa e... Quindi tu, oltre a te naturalmente che sei il proprietario, hai il tuo figlio... Davide, che fa il gommista. Quindi è tutta un'azienda di famiglia. Sì, è un'azienda di famiglia. Hai clienti che vengono anche da Via, oltre dal comune di Barco? Sì, 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 vengono dai paesi limitrofi, sono sempre venuti, i nostri clienti vengono dalla zona Bardi, diciamo da Valmozzo, da Borgotaro, Bedonia. Diciamo che ci hai creato un bel giro, no? Eh, sì, sì, un bel giro, abbiamo. Bene, Giovanni, noi ti ringraziamo veramente e ci fa piacere aver fatto questo video per far conoscere anche il tuo lavoro che abbiamo nella nostra Valcena. Grazie, Giovanni. A voi che siete passati, comunque vedi, l'afficina è un po' in disordine comunque. Si lavora. Si lavora.